Una delegazione guidata dalla Presidente della Regina Calcio Lillofoti e dal Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà è stata ricevuta in FIGIC dal Presidente Carlo Tavecchio per discutere del futuro della società calabrese. Delegazione che in mattinata di venerdì ha fatto visita anche al Presidente del CONI Giovanni Malagò. Gli Amaranto il 14 luglio non hanno presentato la fiduizione necessaria per l'iscrizione al campionato di Lega Pro ed oggi si sono presentati da Tavecchio chiedendo di riaprire i termini per l'iscrizione qualora il 27 luglio nessun altro club abbia presentato domanda di ripescaggio e non si sia raggiunto il numero di 60 squadre iscritte. Oggi come oggi ci sono poche speranze ha spiegato Tavecchio a Foti e Falcomatà anche se la speranza è l'ultima a morire. Fino al 27 luglio ha giunto il Presidente della FIGICI. Non possiamo fare più niente, dopo si vedrà. Grazie a tutti.